responsabilità di chi insegna figlia mia anche insegnare può diventare opera di misericordia se si è animati dal desiderio di fare del bene ai propri simili elevandoli spiritualmente e moralmente gesù si è definito maestro egli solo essendo la verità personificata aveva pieno diritto di insegnare chi su suo esempio a questa delicata missione da compiere deve sentire una grande responsabilità di gesù si pote dire che cominciò a fare e ad insegnare così devono fare i sacerdoti i religiosi i genitori che devono anzitutto educare e istruire con l'esempio ma anche i maestri di scienze profane devono rendersi conto che le verità e le nozioni di cui avranno arricchito la mente dei loro alunni potranno incidere sulla vita di questi determinandone spesso le scelte se sacerdoti e genitori dovranno fare dei loro fedeli e figli dei veri cristiani i maestri dovranno farne dei buoni cittadini l'azione degli uni e degli altri si dovrà integrare e completare quale responsabilità per chi insegna l'errore e per chi induce a compiere il male con lo scandalo ma vi è una forma di insegnamento che può essere comune a tutti quella cioè di praticare la giustizia secondo la legge di dio e della coscienza resta per costoro la parola di gesù chi avrà insegnato a molti la giustizia brillerà nel cielo come una stella